Ok, adesso prende la mancia a sparare. Sì, so. Ma lui può andare direttamente da qua senza prendere l'accento. Sì, so. Per accendere. Perché fuochi d'artificio. E per caso. Allora io la stiappe di qua. Pronta per bloccare. La scuola rosso allora con la scuola. Sì, no, se lo scuola così così io vado a vedere come ciò la scuola. Ok, si. L'ho preso. Ok, già fai. Fatto. You can continue to play if you want. Yeah, keep playing. Facciamo vedere l'avete subreddietta. Ok, perfetto. Done. Grazie. Fai in giro. Così la vasica. Grazie. 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 Grazie.